Gli agenti della Polizia hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal GIP presso il Tribunale di Messina a carico di tre soggetti messinesi di 31, 30 e 19 anni, ritenuti responsabili dei reati di lesioni personali aggravate, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo e ricettazione, tutti aggravati per essere stati commessi avvalendosi di un soggetto minorenne. Nello specifico, un 35enne messinese si è recato presso il pronto soccorso di un ospedale cittadino in quanto poco prima era stato attinto da un colpo di pistola alla gamba mentre si trovava all'interno del locale da egli stesso gestito. All'interno del predetto esercizio commerciale, personale della squadra mobile e del gabinetto provinciale di Polizia Scientifica della Questura di Messina, intervenuto per i rilievi del caso, ha repertato e sottoposto a sequestro un bossolo e una ogiva, evidentemente fuoriuscita dopo aver colpito l'uomo. La visione delle telecamere interne al locale ha documentato l'ingresso di un soggetto travisato con casco integrale e abbigliato con indumenti di colore nero, il quale ha poi esploso un colpo di pistola all'indirizzo della gamba destra dell'uomo per poi allontanarsi repentinamente in sella a uno scooter, risultato rubato, sul quale lo attendeva un complice. La vittima, escussa presso il nosocomio, ha riferito di sconoscere le ragioni dell'evento delittuoso in suo danno e di non nutrire sospetti su alcuno, escludendo di aver mai avuto problemi o ricevuto minacce. Di analogo tenore le dichiarazioni di alcuni dei presenti, dipendenti del 35enne, che non hanno fornito alcuna indicazione utile alla ricostruzione di quanto occorso. Le investigazioni, effettuate tramite attività tecnica e minuziosa analisi delle riprese di molteplici sistemi di videosorveglianza della zona, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di responsabilità in ordine a tale fatto delittuoso proprio del 31enne e del 30enne che hanno programmato e coordinato l'azione criminosa del giovane di 19 anni e di un soggetto minorenne di appena 16 anni. Gli ultimi due hanno materialmente posto in essere l'azione di fuoco, specificamente il 19enne quale conducente dello scooter e il minorenne quale soggetto che ha sparato. Il minore, la cui posizione è stata stralciata e rimessa alla competente procura della Repubblica, è in atto ristretto presso un istituto penale per minorenni per un'altra causa e non è stato raggiunto da provvedimenti di natura cautelare per i fatti in questione. I soggetti messinesi di 31 e 30 anni sono stati invece rintracciati e dopo le formalità di rito associati presso la casa circondariale di Messina-Gazzi per essere trattenuti a disposizione dell'autorità giudiziaria procedente, mentre al giovane 19enne, già ristretto per altre cause, il pertinente provvedimento cautelare del massimo rigore è stato notificato presso lo stesso istituto di pena.